Presidente Bellon, cosa risponde a chi chiede il commissariamento dell'IRA, a chi critica adesso ultimamente anche i servizi offerti da IRA e all'assessore Grigoletto che parla di un buco di 9 milioni di euro? Non c'è nessun buco di 9 milioni di euro, i bilanci dell'ente sono inattivo e noi non abbiamo assolutamente nessun deficit economico da dimostrare, per quanto riguarda i disservizi che sono apparsi sulla stampa quotidiana di oggi non ci sono, non sono assolutamente presenti, ricordo che per quanto riguarda l'esternalizzazione del servizio cucina, questa da un punto di vista pratico prevede di esterno solo ed esclusivamente un cuoco coordinatore, tutte le altre persone addette all'allestimento dei pasti sono esattamente le stesse che erano fino alla mezzanotte del 31 di gennaio, anche gli impianti e la cucina dove si cucinano i pasti sono gli stessi, è stata solo ed esclusivamente cambiata l'organizzazione del lavoro e quindi non c'è nessuna esternalizzazione, nel senso che i pasti si cucinano in sede di Alta Vita Ira e il personale che li prepara, che prepara i piatti, le dietiste, le diete speciali, che lava le pentole e quant'altro sono solo ed esclusivamente gli stessi che erano al 31 di gennaio. Le chiedo cosa risponde appunto alla richiesta di commissariamento? Non c'è nessun motivo per essere commissariati, noi abbiamo dalla fine di ottobre del 2014 in corso un servizio ispettivo del Consiglio regionale del Veneto e sino ad ora non abbiamo nessuna notizia di alcuna irregolarità.